Sì, sono contento di essere tornato, di aver ritrovato il capo perché per me star fuori è difficile, è stato difficile, è stato un infortunio, il primo importante che ho avuto in carriera, quindi anche psicologicamente per me non è stato facile, però la mia famiglia, la mia moglie sono state vicine, le persone che mi vogliono bene sono state vicine, quindi ho passato questo periodo a cercare di farmi trovare pronto. Dopo 60 minuti avevo i crampi, però la gamba ha risposto bene, per quanto riguarda la partita bravi, 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 tutti bravi perché non era facile recuperare, secondo me a livello di gioco e di gestione della palla abbiamo fatto una grandissima partita, loro hanno avuto qualche occasione ma su seconde palle, su azione manovrata non hanno fatto niente, quindi niente, sono contento perché era importante, perché ce lo meritiamo per come lavoriamo, quindi avanti così. Adesso il Como e poi tre partite, tre match Salviezza contro Prosesto, Pistoiese e Olbia. Ora ricarichiamo le batterie questi due giorni, poi prepariamo una partita di Como, una partita difficile, andremo là per fare a testa alta, andremo a testa alta per fare la nostra partita senza paura niente di nessuno, e poi sicuramente avremo degli sconti diretti importanti e vedremo comunque di farci trovare sempre pronti.